Si fa sempre più chiaro lo scenario relativo alla lunga scia di attentati e omicidi che tra febbraio e inizi di marzo ha insanguinato la provincia nord di Napoli. I cadaveri bruciati e le esecuzioni di strada sono collegate ad un unico fil rouge che porta direttamente ad Afragola, regno criminale del clan Moccia, una delle organizzazioni criminali più spietate e ricche e temute dell'intera campagna, al pari probabilmente dei soli casalesi. Ebbene, i delitti di queste ultime settimane sarebbero il frutto avvelenato di un vecchio regolamento di conti tra esponenti dei Moccia, appunto, e alcuni soggetti legati al clan Cennamo, attivo tra Casandrino, Grumo Nevano e Villaricca. Una vecchia vendetta consumata da anni di distanza, probabilmente da chi non ha mai dimenticato l'affronto subito e ha deciso di lavarlo col sangue. Quasi tutti i morti ammazzati nell'area nord di Napoli erano infatti legati da vincoli di amicizia o di conoscenza, tanto che gli investigatori non escludono che alcune delle più recenti vittime abbiano potuto avere un ruolo nei primi due agguati che hanno inaugurato la mattanza, uccisi perché sapevano o perché avrebbero potuto a loro volta vendicarsi. Grazie.